eccoci qua questa la serratura della macchina se io tiro il cilindretto non esce perché è fermato da da questa clip questa qua che vedete dove c'è il pollice allora per toglierla si fa così è molto semplice si infila sotto si ammazza il telefono così anche lì è volata via cilindretto vecchio cilindretto nuovo inserisco la chiave nel cilindretto nuovo non ha ancora modificato se lo inserisco non gira non gira la chiave non gira perché le lamelle sporgono questi dentini qua sporgo e quindi si incastrano in questa parte e impediscono al cilindro di ruotare li metta parto dalla prima qua parto dalla cilindretto parto dalla cilindro sul parto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla fine io ho limato tutto, lo inserisco e la chiave gira. Semplice ed efficace. Grazie a tutti. Grazie a tutti.